Un saluto a tutti voi, ben ritrovati qui nel mio canale da tenore informatico per questa guida dedicata a Windows 11. Il video è anche valido per Windows 10. Lo sai che nel sistema operativo di casa Microsoft esiste un comando, riga di comando, che permette di recuperare tutti i tuoi dati cancellati per sbaglio? Ebbene sì, esiste questo comando che però non funziona, a meno che non andiamo a installare l'app per farlo funzionare. Solo che recuperare i dati utilizzando il CMD diventa un po' complicato. Ecco perché andremo a installare un'alternativa che prende il posto del comando winfr. Andiamo qui in basso nella casella di ricerca o start per avviare il Microsoft Store. Una volta che si apre la pagina, su Cerca App inseriamo l'applicazione che si chiama la winfr gui tratto app. Come dicevo questa applicazione prende il posto del vecchio comando winfr. E grazie all'interfaccia gui potremo utilizzare questo applicativo e recuperare tutti i nostri dati con estrema facilità. Grazie all'interfaccia gui. Cosa dobbiamo fare? Molto semplicemente andiamo a installare l'applicazione. Non è necessario inserire l'account Microsoft per poterlo fare. Clicchiamo su Installa. Aspettiamo alcuni secondi che venga scaricata e installata l'applicazione. Fatto questo, chiudiamo la pagina di Microsoft Store. Andiamo in basso della tastiera, su Scrivi, digitiamo la parola winfr. Ci spostiamo sopra l'applicazione appena installata, destro del mouse e l'aggiungiamo nella barra delle applicazioni. In modo da trovarla sempre disponibile. Avviamo l'app. In pochi secondi si apre l'app e ci viene chiesto se vogliamo fare l'aggiornamento. Consigliato, ma io ignoro per andare avanti e farvi vedere tutte le funzionalità di questa applicazione. Come dice qui, che adesso è in inglese, ma possiamo mettere la lingua in italiano. Andiamo su lingua, italiano, e qui dice che è l'interfaccia GUI di winfr, che è il vecchio comando, utilizzando le funzioni di winfr, Windows File Recovery, applicazione della riga di comando Microsoft. Grazie a questa interfaccia potremo recuperare i file cancellati utilizzando un'interfaccia utente grafica, come questa qua, del tutto gratuita, senza spendere soldi. Per questo bisogna ringraziare Aomei per aver creato questa app in collaborazione con la Microsoft. Perfetto, vediamo un po' come funziona. Facilissimo. Nella parte in alto troviamo la lingua. Si può cambiare e mettere la lingua in italiano. Chiedere le info delle software, il controllo degli aggiornamenti. Nella parte più in basso, al centro, vengono rilevati tutte le memorie interne ed esterne, oppure seleziona una partizione da scansionare. Se inserite un nuovo dispositivo nel vostro PC, lo potete rilevare cliccando qui su Scansiona ora. Prima di procedere e farti vedere come recuperare i dati, nella parte in basso possiamo vedere i percorsi salvati, decidere dove salvare i nostri file da recuperare. Ti ricordo che è consigliabile utilizzare una memoria secondaria per il recupero dei dati, perché non lo puoi fare nella memoria dove sono stati cancellati i file. Comunque, automaticamente se selezioniamo un disco dove vogliamo recuperare, in automatico verrà spostato il percorso. Voglio fare il recupero su C e da C si sposta in un percorso che può essere D o E. Questo perché io ho molti dischi all'interno del mio PC. Nella parte più in basso troviamo impostazioni avanzate. Questo riguarda soltanto il disco locale C e non le altre memorie. Qui possiamo tranquillamente andare a selezionare i tipi di file da cercare, senza trovarli tutti, questo è inteso come estensioni file. Magari io voglio solo trovare le foto e seleziono solo foto. Poi possiamo personalizzare qui in basso il tipo di estensione da cercare in base a tipo di file, come ad esempio foto o video, e cartelle da scansionare. decidere il tipo di cartella per la scansione. Come ad esempio voglio cercare file cancellati soltanto dal cestino, facendo la selezione e confermando OK. Bene. Usciamo dalla pagina. Per completare modalità di scansione, scansione rapida o scansione approfondita. Se la scansione rapida ti dà un risultato che non ti soddisfa perché mancano dei file, allora la soluzione migliore è quella di fare la scansione approfondita. Adesso, per farti vedere un po' come funziona, vado ad aprire la mia chiavetta di tenore 3, dove ci sono due foto. All'interno della cartella, ovvero della chiavetta USB esterna, ci sono queste foto. Le cancello per farti vedere come riesci a recuperarle senza problemi. Elimino le foto da tenore 3, puoi leggeri qui nel percorso. Elimino subito le foto, le cancello definitivamente dalla mia chiavetta USB. Chiudo la pagina, la riapro per farti vedere questo PC tenore 3 e puoi vedere che non ci sono le foto. Bene. Adesso, per recuperare le foto, semplicemente mi devo spostare su G tenore 3, ovvero il nome del percorso, lettera G, e decidere dove salvare i miei file. E li voglio salvare nelle tenore 2 E. Bene. Una volta che abbiamo selezionato il percorso di salvataggio, possiamo tranquillamente andare qui in basso su Avvia Recupero. E come già ti dicevo, puoi selezionare il recupero rapido o approfondito. Questo dipende dal risultato finale. Io provo con la scansione rapida, perché è quella più veloce. Siamo pronti. Clicco su Avvia Recupero. E come puoi vedere, a scansione rapida completata, possiamo vedere che i file trovati sono due, sono quelli che io ho eliminato un attimo fa. Vado a controllare e per fare questo, clicco su Visualizza file recuperati, oppure se preferisci torna alla home. Questo è comodo se non sai dove trovare i file. Clicchiamo e si apre la cartella della Recovery. Io ho salvato i file su Tenore 2 E, se ti ricordi bene. Apro la cartella, all'interno della cartella Recovery, ecco qua i file appena recuperati con le info della Recovery Log. E questi sono i miei file. Quindi, una volta che li ho recuperati, li vado a mettere nella cartella di Tenore 3, che qui era vuota prima, e li sposto qua. E così facendo abbiamo recuperato i nostri dati privati. Torniamo alla home e questo è tutto. Ti ringrazio per avermi seguito fino alla fine di questo mio video. Ti ricordo l'iscrizione al mio canale. Lascia un like a questo video se ti è piaciuto. Per qualsiasi cosa, commenta qui in basso nella sezione dei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video da Tenore Informatico. Ciao a tutti e alla prossima!